La lucchese che domani proverà a sfatare il tabù del Porta Elisa ritrova un Casapieri in più tra i pali. Il sostituto del giovane portiere Rosso Nero Babbini, che non l'ha fatto rimpiangere, sembra destinato a sedersi in panchina per consentire al mister Innocenti di disporre di un over in più da giocarsi probabilmente in mezzo al campo. I dubbi maggiori per il mister Rosso Nero vengono però dal reparto avanzato, dove solo all'ultima rifinitura si saprà se Pecchioli sia arrolabile per la gara ed anche Cristian Berga che non si è allenato particolarmente bene in settimana riduce dal contrattempo muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime due sfide. Con buona probabilità dovrebbe toccare quindi a Canalini guidare l'attacco lucchese contro Rosignano, formazione che Innocenti ha definito ostica. Proviamo quindi ad ipotizzare gli undici di pretenza per la gara del Porta Elisa. Casapieri difenderà come detto la Porta Rosso Nera. Difesa 4 è mai collaudata con Carli e Desperci centrali, Angeli e Barretta, Trezzini sinistro e destro. A centro campo potrebbe trovare spazio di vita a destra, Cerniera centrale formata da Liboni e di nuovo arrivato Cipriani con Chianese a sinistra. In attacco l'unico certo del posto sembra essere Canalini, che potrebbe fare sponda con Berga in un classico 4-4-2 oppure schierato da unica punta, magari con Gatto a ritagliarsi il ruolo di trequartista tra le linee in un 4-4-1-1.